Abbiamo due resistori, R1 di valore incognito ed R2 di valore pari a 12 Ohm, che sono collegati ai nodi A, B e C, come indicato qui in questo semplice circuito. Ci viene detto che la tensione misurata ai nodi AC è pari a 100 Volt, ci viene inoltre detto che la tensione VBC, quindi misurata ai nodi BC è pari a 40 Volt, ci viene chiesto di calcolare il valore incognito di R1. Per risolvere questo esercizio è sufficiente ricordare la formula del partitore di tensione. Ci dice che assegnati due resistori collegati così in serie, come questi due resistori che evidentemente sono collegati in serie poiché una corrente I che viene iniettata in questo punto attraversa sia R1 che R2 e allora ci porta la formula del partitore di tensione a osservare che se questa è la tensione V con out e questa è la tensione V con in, la tensione V con in è uguale a V con in per valore di resistenza di questo resistore dove andiamo a prelevare la tensione di uscita diviso la loro somma R1 più R2. Questa è la formula generale del partitore di tensione. Adesso dobbiamo adattare questa formula al nostro caso specifico. In particolare, nel nostro caso, la V con in corrisponde alla tensione V a C, quindi andiamo a scriverci V a C qui. La tensione V con out, altro non è che la tensione VBC, che è nota ed è pari a 40 volt, quindi questa è VBC. Conosciamo inoltre il valore di R2, che è 12 ohm, ci rimane incognito il valore di R1 e non abbiamo altre incognite. Ora, a VBC possiamo sostituire i 40 volt, a VAC possiamo sostituire i 100 volt e quindi adesso abbiamo riportato tutti i valori a noi noti e non ci resta altro che risolvere questa equazione di primo grado nell'incognita R1. Ora abbiamo espresso già tutti i valori in volta in ohm, e quindi automaticamente il valore di R1 verrà fuori in ohm e pertanto adesso nei calcoli che seguono non riporteremo più le unità di misura. Per risolvere questa semplice equazione è sufficiente portare questo termine a sinistra, quindi abbiamo 40 per R1 più 12 uguale a 100 per 12 che fa 1200. Questo 40 lo portiamo a destra, quindi diventa ora R1 più 12 uguale a 1200 diviso 40. Questo è un semplice calcolo, si può fare anche a mente, 3 per 4 è 12 e quindi viene 30. Abbiamo ora che R1 più 12 è uguale a 30 e quindi R1 è uguale a 30 meno 12. 15 e questo è pari a 18 e questi sono ohm. Abbiamo dunque, utilizzando la formula del partitore, ottenuto il valore incognito di R1 che è pari a 18 ohm. Grazie dell'attenzione e alla prossima! Grazie!